Buon e benedetto lunedì, ascoltiamo attentamente la parola d'oggi, una parola certamente magnifica per la nostra edificazione. Dal secondo libro di Samuele, in quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero, ecco noi siamo tue ossa e tua carne, già prima quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele, il Signore ti ha detto, tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide, re di Israele. Davide aveva trent'anni quando fu fatto re e regnò quarant'anni, a Ebron regnò su Giuda sette anni e sei mesi e a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide, tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno, per dire Davide non potrai entrare qui, ma Davide espugnò la roccia di Sion, cioè la città di Davide. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Che magnifica questa parola, no? Vediamo come il popolo di Israele, una volta che è stato ucciso, che è morto Saul, e questo giovanotto che è prescelto, perché già era stato eletto, questo pastore, questo pastore di pecore, e si riuniscono tutte le dodici tribù, i rappresentanti delle dodici tribù di Israele, di questo popolo che si sta costituendo, no? Piano, piano, e stanno capendo che l'unione fa la forza, e l'unione con Dio soprattutto, no? così che si presentano davanti a lui, praticamente a dire, tu sei l'unto di Dio, il scelto di Dio per l'unificazione, la costituzione, la conformazione finalmente di questo nuovo popolo di Israele. la parola certamente che fa una sintesi, no? Di tutti i 40 anni del regnato di Davide, e come qui viene in scena un popolo, i Jebusei, che questo viene nominato da Gesù come uno dei popoli pagani, no? Uno dei popoli che rifiutano alla rivelazione, che lo rifiutano al Messia. E non per caso Davide, noi lo sappiamo, sta rappresentando la figura di Gesù. Anzi, bellissimo come finisce il brano d'oggi, perché dice che questo giovane, a quanti anni? a trent'anni comincia a regnare. Oh, anche Gesù a trent'anni inizia il suo, la sua missione apostolica, per dirlo così. A trent'anni, certamente che a differenza saranno quarant'anni del regno, invece Gesù avrà tre anni, perché il tre è la perfezione, padre, figlio e spirito santo, il triangolo perfetto, la chiusura perfetta, un'unità perfetta, e concluderà la sua, o meglio, darà inizio alla santificazione dell'uomini attraverso la Chiesa. Però il punto qual è? Il punto è che Dio ha scelto uno, uno debole come Davide, pastore dei pecore, per guidare il suo popolo, perché se non è una persona docile, se non è una persona che se fidi di Dio non potrà mai guidare il suo popolo. Vuol dire che nella tua vita, nella mia vita, noi per poter stare in pace, per avere un'unità, abbiamo bisogno di qualcuno che ci possa guidare, qualcuno che faccia come dei Davide, per guidarci alla felicità. Certo, Davide non è la felicità, il regnato di Davide, più avanti lo ascolteremo, sarà pieno di benedizione, ma anche giustamente nell'umanità, lo suo avrà anche la debolezza. Bratelli, che bella parola! Tu e Dio abbiamo bisogno di uno che vada alla testa. Ecco, il popolo di Israele che si sta costituendo, questi membri che a volte si sopportano, a volte non si sopportano, come sono le nostre passioni, come sono i nostri gusti, come sono i nostri capricci, come sono le nostre virtù, i nostri defetti, molte volte non vanno d'accordo, come che litigano dentro di noi. Tu vuoi fare del bene? Invece, dice San Paolo, quello che ha portato di mano è fare quello che sta sbagliato. E noi cerchiamo, con la grazia di Dio, sostenerci nella grazia, sostenerci nella parola, e dopodiché la nostra precarietà ferita con la cicatrice del peccato originale ci fa prendere le decisioni che a volte non ci portano alla felicità. Ecco perché uno è più debole che un altro, uno è più forte che un altro. è certamente che chi prega, chi riceve i sacramenti, può resistere di più a chi non prega, ma molte volte si batte il petto e va in chiesa, ma la sua vita non cambia. Perché? Perché? Perché dentro di lui non c'è ne più nel combattimento. Cioè non si fa la domanda di che se forse io quello che sto facendo sta bene o non sta bene. sempre l'ho fatto così, sempre si è fatto così, vuol dire che sta bene. Non è così. Ecco perché Davide, il regnato di Davide, sì, si presentano questi rappresentanti, ma non sta detto che tutti le faranno caso. Come? Non sta detto che un fedele le faccia caso al parroco, al pastore, al presvitero. Non sta detto che uno le faccia caso a Dio attraverso quelli che le deve guidare. magari fosse così. Ecco perché la parola d'oggi è una parola di salvezza. Scopri. Io sto con questo dal Natale, mi è piaciuta tanto la visita dei pastori e dei sapienti d'Oriente, i magi, che hanno seguito la stella. Segui la tua stella. Segui per arrivare alla santità. perché la nostra ultima fermata è la su. Buona giornata. Sa benedica.